Oh si! Il mio piano è quasi completo e tutto grazie a te. Krash goddicoot. Andi, che succede? Interferisci con il nostro signore? Krash, Cortex non userai cristalli per contenere l'energia del pianeta, Ma per alimentare il nuovo cortice cortex che ha costruito sulla stazione spaziale Un solo colpo di quel raggio e renderà il mondo intero fuorchiamo Crash non deve impossessarsi di quei cristalli Sei uno sciocco! Gli sta dicendo tutto! Eh, sì, sì, ecco, insomma, ecco me Chiedo scusa per l'interruzione Crash, portami i cristalli!